salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo malvagio video bene adesso avete anche sentito la mia voce cattiva e malvagia adesso muoio e mi incazzo come una bestia allora mettiamo subito qui un bel waypoint lo chiamiamo stronzolo come lo chiamiamo up lead up lead ok togliamo il find si 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 no vabbè sti cazzi sta bene così ma tu sei normale perché cammini a testa in giù bellissimo voglio camminare anch'io a testa in giù uè uè vabbò vabbò muori bitch allora in questo video ve lo dico io cosa dobbiamo fare dobbiamo fare la up lead per forza di cose allora oggi voglio fare la voce cattiva perché è bella 64 cosi di di questo che è buono no perché si craftano come non lo so non conosco un cazzo della town cuts allora visto che mi sono rotto sapete cosa sono rotto i contenitori di stare con inventario pieno io faccio la up lead in questo episodio io faccio la up lead raffanculo vediamo allora mi servono questi servono questi servono poi glass serve poi ho finito tutto ma che merda è si dice ho serve che altro mi serve mmm qui non c'è un cazzo mi serve quella chest piena di chest dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei dai ti ho appena messo acqua eh 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 allora perché cerco la tu non mi servi vediamo tu cosa c'hai cosa c'hai cosa c'hai oh c'è l'ho ma vaffanculo eh il nether quartz mi serve pure no di bidi no ti prego e vabbè lo vediamo per fare questo mi serve il quartz glass che si fa col quarzo polverizzato quindi devo polverizzare almeno ma che dico almeno almeno quattro cinque di questi quindi ora si va qui no si va qui tu via 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 si prende questo cinque di quarzo ci si mette e si polverizza io voglio assolutamente la piede wow wow comunque a breve dovrebbe arrivarmi la scheda video anzi finchè voi vedete questo video sarà probabilmente uscito anche quel video dove vi farò un bel paragone tra la r9280 e la r9380 farò un bel unboxing statistiche benchmark grafici cercherò di fare un video figo baby allora oh 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 qua c'ho un'altra redstone e altre cose oh oh un altro quarzo la sebbia mi serve mi serve la sebbia la sebbia questa sta qua e beh allora valla a cuocere valla a cuocere qua c'è un octate ah è vero si me l'ha droppato una reward quindi io mo con altri quanto 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 altro due di vetro ma che sto volando boh rumori strani ah ma c'è un po' di glass adesso potrò di regola farmi ue 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 questi qua oh yeah l'ho fatto questo qua invece si fa col logic processor processo si che si fa col printed logic che si fa con inscriber logic press quindi io avendo droppato tutte quelle cose prima posso prendere un bellissimo inscriber sta prendendo un bellissimo ue 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 dove sta ehi io ce l'avevo i cosi ah infatti inscriber logic process ci 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 la posso mettere vediamo ma non è una orange voglio una orange vabbè prendiamo il piccolo di legno un attimo dove sei dove sei forse sei qui bravo chicco spacchiamo questo qua ma vai che posso no devo spaccare questo qua ho detto così e così faccio spacca spacca mi serve del col 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 culo 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 col 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 eccolo qua comunque mi sposto qua mi faccio tutta la base figa vaffan cuore perché qua fa schifo così come sta messa tutta brutta disordinata mettiamo questo mettiamo dentro uno di col adesso guardate quanto produce oh oh 40 rf una merda ah qua l'energia non va ma non è già la puzzetta energy acceptor e si va full x crystal e chi ce l'ha? nessuno un charger certus un quartz e un nether quartz e il nether quartz forse si può craftare nether quartz nether quartz ho detto nether quartz nether quartz bam vedemi che si può fare con quel coso strano nooo dio dio non si può andare avanti con le quest farebbe forse quella del nether se riuscissi a capire dove cavolo si trova allora io voglio il quarzo mi è scassato quartz eeeh questo pianeta è conosciuto per la sua ricchezza di risorse di quarzo ma sembra che il tuo arrivo abbia causato degli strani disturbi nella superficie di questo pianeta e non può essere trovato nella scena parte tra l'altro può essere trovato davvero molto lontano in questo mondo di oscurità eterna devo viaggere molto lontano no si devo viaggere molto lontano per trovare il quartz ore sembra della normale nether quartz ma con un aspetto pietroso va bene ho capito quindi mi state dicendo che devo andare il dovere mi chiama tornerò subito ma finalmente ha smesso di fare il rumore il jetpack la pozione di speed me la prendo perchè let's go andiamo super lontani vai vai corri 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 e corri le torci non tu sei bastano io corro finchè posso niente posso scavare fino alla bedrock non troverò niente cos'è questo marmo buio che rompe le palle gatto che mi angola copper io non trovo niente però già arrivo all'inferno così vi sto passo è questo cioè mi state dicendo che dovevo soltanto andare giù ma siete dei bastardi dei bastardi almeno l'ho trovato si però me lo voglio prendere per favore non fare cose strane andiamo vediamo andiamo vediamo si dammi tutto il quarzo che puoi ti prego mio amor no mi ha tolto la torcia vabbè sti cazzi cosa che prendo il quarzo poi me ne scappo a casa me ne scappo a casa quindi tutta la parte dell'esplorazione dove andavo cercando il quarzo la posso tagliare visto che l'ho trovato l'ho trovato andiamo a casa vediamo se riesco a completare la missione di fare l'aplied spero di si dai 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 dimmi di si dimmi di si bam 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 questo non serve questo non serve questi si che altro mi serve questo mi serve questo pur questo no questo no quarzo si cibo si illuminite qua no ferro nemmeno non è che posso smettere tutti gli ore me l'ho scordato allora vediamo un po' se posso fare il disco da un cappala uno cappala uno cappala ah è vero mi serviva mettere un charged più che devo fare devo fare energy acceptor energy acceptor quindi mi serve un fare questo mi serve un charged certus un quartz un charged un nether quartz e una redstone dust dentro l'acqua ok quindi facciamo due charged due redstone e due di questa così dovrei poter avere tipo quattro cristalli che non si sa mai possono servire un coso di acqua quindi andiamo a prendere il bicchiere qua dell'acqua prendiamo l'acqua da qua sbim beh nell'acqua eccola qua mettiamo qua l'acqua mettiamo uno due e tre può fare la reazione sua con la figa blim blim fatti oh si 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 invece è molto naturale questa roba possiamo fare finalmente l'energy acceptor che servono altri quarts class bastardissimo che mi serve l'iron iron man ce l'abbiamo qua non ce l'abbiamo qua ce l'abbiamo qua dovrei polverizzare altro certus certus altro cinque per fare il coso quindi lo mettiamo subito a fare così possiamo fare gli altri due di vetro che ci servono sperando che basti se non ho più di vetro non ne ho più forse sta dentro la cesta polverizza 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 bel pulverizer mano ma io sono scemo perché ho il coso che polverizza da solo vabbè allora prendiamo la sendola e la mettiamo qua dentro anche se ne dovrei fare più di uno però dai voglio far partire soltanto l'aplia dalla fine quarts glass iron e redstone dovrei poterlo fare il primo disco il primo disco non me lo fa quarts glass 3 di iron ne ho 2 redstone ce l'ho speriamo che me lo fa perché io sarei davvero contenterrimo oh me l'ha fatto allora devo fare quello prima giusto e ora questo non me lo fa perché non me lo fa allora scusami tu vuoi uno di questo e te l'ho dato due di questi e te l'ho dati poi vuoi tre di ferro e la redstone qualcuno si è rubato la redstone o l'ho buttata io dentro o c'è un ladro qua qui abbiamo un ladro vabbè e due di redstone tre di redstone oh mio dio il primo coso cosa serve più a un drive coso drive eh che si fa con il diamante si due cavi di quarzo il pure eh madonna cara l'upload più brutta mai vista comunque un disco e poi mi serve un crafting mamma mia del crafting adesso che altra fatica sarà crafting termina si fa col panel che si fa con due logic quindi mi servono tre chip di oro penso si infatti tre chip di oro quindi mi serve l'oro che è già sparito di nuovo mi serve l'altro dimmi che c'è dimmi che c'è dimmi che c'è eeeh ma quanto ne so nooo quindi tre chip di oro one questo sarà mamma mia al culo ogni volta lo prendo che cosa è un aeroporto qua finita l'energia che è successo questo questo e che manca ah perché ho messo l'engineering e dovevo mettere quell'altro il logic logic eccolo qua quindi devo fare tre va bene facciamo tipo quattro cinque due adesso mi controllare che è meglio uno quindi eh no tre me ne sarò uno due e tre me ne serve qualche altro no ok uno due e tre poi mi serve uno due eh si vabbè aspetta quelli di silicone uno due dan da 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 dan da 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 na stato l'ha piet oh che coduria adesso mi si riempie in un secondo però l'ho fatta si 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 sì oh yeah quanti tipi liberi ho ancora 24 Che bello Qua ci sono ancora dei cristalli che forse non cresceranno mai Visto che sono stato 3 ore Farli crescere, aspettare Non sono ancora cresciuti, comunque Ce l'ho fatta Chi non credeva in me Adesso mi metto a fare altri dischetti In modo da In modo da non Da togliere tutte queste ceste di merda Perché io odio le ceste Mentre amo L'aplied Finalmente avrò tutto un inventario Bello ordinato e Questa serie adesso inizierà ad andare veloce avanti Perché mi serve una cosa, bam la trovo Oh, mi serve di craftare una cosa, bam la crafto Madonna quanta roba da trasferire Al prossimo video